Si è svolto l'incontro fra Governo e Regioni giovedì in relazione alla legge di stabilità, dopo il duro scontro sui tagli alle Regioni. Il Premier Renzi, pur mantenendo la sua posizione, dichiara di essere pronto a proposte delle Regioni perché si taglino sprechi e non a servizi. Il Presidente della Conferenza Regionale, il Presidente della Regione Piemonte Chiambarino, si dice soddisfatto dell'incontro che opera una quasi nuova nei rapporti con il Governo dopo le tensioni dei giorni scorsi.